Un modello di ingegneria strutturale che serva anche da riferimento per poter accertare tutta la sicurezza dei viadotti stradali e autostradali. Lo stanno mettendo a punto i tecnici del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università La Sapienza di Roma, diretti da Achille Paoloni e del Ministero delle Infrastrutture, con Placido Migliorino, che ha ricevuto anche il battesimo dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, che si è arrecato in Abruzzo. Il laboratorio pratico in sostanza è il viadotto Colle Castino di Colle d'Ara, Teramo, lungo l'autostrada 24, Teramo-L'Aquila-Roma, al centro di molte polemiche negli ultimi tempi sull'ammaloramento scoppiate proprio all'indomani del crollo del ponte Morandi di Genova. Gli esperti hanno effettuato delle prove di carico sulla struttura autostradale per testare i parametri di riferimento indicati nel modello. Le indicazioni necessarie sono state fornite dal posizionamento di blocchi di cemento armato e sette camion a pieno carico per un peso complessivo che ha superato le 200 tonnellate su un tratto di un impalcato di quasi 40 metri di lunghezza di un viadotto costruito a fine anni 70. Ne è stata misurata quindi la reazione attraverso nove accelerometri, che hanno registrato una frequenza utile per studiare poi il comportamento dinamico del viadotto. I parametri registrati verranno confrontati ora con quelli attesi per stabilire un range il più attendibile possibile per l'applicabilità di questo modello ai futuri controlli statali sulle infrastrutture in relazione alle nuove normative. La prova verrà replicata nei prossimi giorni anche sul viadotto dell'autostrada 25 Macchia Maura nel comune di Bugnara e successivamente anche su un tratto della 14 nei pressi di Ancona e sulla 16 probabilmente.